Siamo qui al Cobianchi dove si svolge per il terzo anno il progetto Upside Down, anche il bene deve fare casino è un progetto che anche quest'anno coinvolge tutti gli studenti, anzi gli studenti stanno diventando protagonisti perché sono loro a preparare gli incontri, anche a diffondere questo messaggio all'interno della scuola Oggi siamo contenti di giocare in casa perché qui di fianco a me c'è Willy Gnonto che tutti conoscete il ragazzo di Baveno che nel calcio è arrivato fino a esordire, a giocare in nazionale e anche a segnare Che emozione ti ha dato esordire in nazionale? È stata un'emozione unica perché è sempre stato il mio sogno fin da quando ero piccolo e sono molto contento perché il mister mi ha dato una bella occasione e spero di fare anche altre partite e di togliermi altre soddisfazioni In questi giorni ci sono i mondiali in Qatar, oltre al calcio ci sono anche tante riflessioni perché è un paese che viola alcuni diritti umani fondamentali Da uomo dello sport, guardando questo avvenimento così fondamentale penso che per un calciatore giocare in mondiali sia l'esperienza più bella ma tutto quello che c'è intorno a questo mondo, che cosa consegna il tuo cuore e la tua mente? Sicuramente la situazione in Qatar non è delle migliori ma sono sicuro che anche magari con questa occasione che può essere un mondiale ci sarà una possibilità per migliorare le cose e dare un messaggio positivo Senti, tu giochi in Leeds, in Premier League proprio da lì è nato anche questo gesto di inginocchiarsi prima delle partite contro il razzismo che è una delle piaghe che ancora coinvolgono non solo lo sport ma la società in generale che cosa il mondo dello sport può fare davvero come anche comunicazione e testimonianza per debellare definitivamente questo problema? Sì, come ho detto prima lo sport e il calcio in generale è una bella occasione perché abbiamo la possibilità di raggiungere più o meno tutti e chiaro giochiamo a calcio, diamo gioia alle persone però si possono anche passare dei messaggi positivi e cercare di cambiare le cose in modo positivo Insomma, anche il bene deve far casino come dice questo progetto Sei contento di essere qui con tanti studenti oggi? Sì, sono molto contento di vedere tutti questi ragazzi e spero di fare una bella chiacchierata con loro